Siete pronti? Siamo pronti? Ah, è finita, così. Madonna. No, salvi. Ma rispondi con un fattuale. Parliamo con Potrick. Ciao, Potrick. Ciao. 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 Puoi pulire la casa? Ok. Iniziamo col salotto. Ok. Porta le scatole. Madonna. Signore. Un po' di maldi. Ha un po' di sorcicollo, signore? Vuole un massaggino? Tutto a posto? E si è spaccato il collo, questo. Cioè, cosa sta guardando qui? Le signorine? Ma le bambine? No, signor Potrick. Spero che sia veramente per imparare a fare maglia, eh. Perché se no, veramente, eh. Signor Potrick. Eh. Beh, che dire. Beh, è una bella casetta, eh. È una bella casetta. Come... Come... Ok. Una alla volta, ok. Questa è una bella casetta, ok. Ah, ok. Cicca. Poi hai i dentini, non ho capito. Che divisa. C'è qualcosa nel tuo settino? Carabella? No, eh. Dai, scusi. Ci ho provato. Questa è una bella casetta, signor Potrick. Eh, cagotto, eh. Eh, la capisco, la capisco. La capisco. È una brutta storia, cagotto. È una brutta storia. Eh, sì, sì, sì. Brutta, brutta storia. Bello, il disegnino. Porca puttana. Mi dica. No. Ci sono ancora tre scatole rimaste. Ok. Quando finisco te lo dico, eh. Ok. È bravo. Bravo che si tiene su bene le mutante per non far vedere le ciappette. Bravo, signor Potrick. Però se si coprisse anche la pancia, magari un po' meno di asia. Un po' meno cagotto. Un po' meno squaravo. Eh, eh, eh. Sempre sta la pancia all'aria, non li fa benissimo, eh. Io glielo dico. E. Ho finito, sì. Sì, sì. Con calma, eh. Con calma. Ho finito. Si è buggato. Eh. Sì, ho finito di pulire. Ok, ti aspetto qua. Ok, aspetto qua. Ok. Che è questo room? Eh Eh madonna Sti porte Madonna Che delicatezza Lo vedo un po' giù Spongebob Che è successo Madonna Deve andare a parlare con Spongebob Oddio Aspetta Oh cazzo Ciao Mi sono persa Ok Va bene Dopo quando vado a pulire la cucina Va bene Va bene Madonna Sono pezzi di Spongebob Dove li butto? Ah qua Io vorrei Sì la musica è un po' in ritardo Ok Ok Bene 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 Non è sferrato Oddio Sì Sì la spongebob Sì la spongebob È un po' lì È un po' lì Sì la spongebob No Non ho paura di te Ma Va a cagare Va Cosa fai qui? Stavo volendo la casa Da quanto tipo Sei qui? Donna Salve Ma non ha le braccia Sta bene Signor Mr. Crumb Madonna Madonna Sì Sì io Io cosa Spongebob Spongebob Eh? Paravo guidata Ok Spongebob Va bene Ok dormo Va bene Spongebob Va bene Spongebob Ma non si fa No, guarda, sta bene così Spongebob Abbiamo dato un bacino? Ah, ma abbiamo dormito qua nel sangue, bello Oh Oh Inventare Uno Oddio Un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti.